3 o la gentaglia benvenuti su questo nuova puntata libera europea sveglia e' la terza puntata no non lo so penso che sia la quarta e ho trovato la ferrovia per chi non lo sapesse con la 1.3 è stata implementata una cosa a qui sotto c'è una cesta già lo so se ma noi non abbiamo la ferrovia è quale puoi sarlo comunque puoi sarlo comunque che cos'è questo platino ce n'è uno base di dico carte di legno che puoi farlo anche se non ce l'hai quando non mi sembra che se lo abbia è un valore del mio è uguale eseguere il testo la ferrovia altri bestiali latino perfetto cazzo si artigli bestiali che fanno gli artigli bestiali allora per velocità il corpo a cortesia del corpo a corto mentale 12 per cento 4 per cento motiva colpo critico 4 4 quanto sono veloce oma ragione di creare c'è delle cose per ampere tutta la storia mio di dio che è trovato di tanta gente aia via io me ne vado che c'è stato sotto e io non è che io non c'è niente no io non vado buon e colgo cartelle che ma prendere che io ho visto un po' tutto hai visto quanta gente oh shit si guarda come si è stati verti intanto mentre io posso oddio quanta gente c'è quanta roba eccolo eccolo questa mangia uomini me serve me serve uomini non è una fatta armature c no come no ci serve armatura almeno la spada di le spore cerca di via le spore le sporence prende in hard mode no è quelli è anche lì quelle luminose se riesce a scavare io te ne sto a limino uno un eliminato ho preso la vite allora aspetta fammi fa così che tolgo quei cosi attento attento medusa allontanati dai mostri c'è quella che c'è quella che perfetto mostri di il cavolo eh niente vado si via via vai fare la giungla 2 eccola e prendo un'altra vai che vedrò meglio è altri due attenta attento ha avvenenato ha avvenenato ha avvenenato ma ecco un'altra la primavera delle la primavera non l'ho mancata città città con l'italia mi ha messo io ho preso ok qualche punto che trova dopo lui non è rimanile 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 che torno con la l'ultima scelta si sai come si fanno no eh sì qualcosa del genere ma dovrei ricorda però almeno mi bardo un pochino di più aspetta vediamo se posso far qualcosa per esporre tipo che cacchio ma quante meduse ci stanno da quando è che ci stanno così tante meduse un attimo arrivo 10 secondi sto controllo armatura colpo critico roba magico ok sei e nove artigli 12 che cavolo so flower boots le servono un botto un cammino più veloce sui fiori qualcosa del genere che era e due ah non ci credo mi stanno ammazzato arrivo no no mi stavano ammazzato per leggere una cosa su usi e scarpine ho trovato scelta e comprate pallottole oh cacchio è vero non c'è ancora partito però prendo prendo un'altra cosa e prendo anche colpo scambio c'era cammina sull'acqua vado dov'è il vendito ma perchè sta sempre fuori questo ma sembra che crescono le piantine sull'erba però vabbè togliamo le ste scarpine 651 dici che bastano arrivo a me scordò qualcosa ci ha toccato oddio ah è vero ci servono oh spora ma poi la mia vedere ci servono ah ma dove stavo andando io non è meglio lì sotto no c'è la legge gente eh ma qua stiamo salendo io dire discende e te la senti let's try si 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 ma sento ma sento ma sento galla artiglio buono minchia che hai fatto eh però che cazzo sempre avvelenato mi due palle quel coso ecco scuola di artiglia quello preso io artiglia 3 ma troppo io ho ho attento ok ok e il pipistrello che mi troppo ho finito le azioni porca troia sono stato a casa dai ancora cosa dai li dobbiamo trovare entri vasi almeno oddio uno è per quello che te so di sei convinto proprio che questa sia la posizione ideale scheletrini oh ma è un'altra ferrovia la stessa? è la stessa no pure il marmo e io l'ho trovato già ecco perché c'era la medusa io ho trovato già il marmo dai vite del cappio perché mi devi fa sclerà ci servono le viti per fare l'armatura eh lo so eccola è quello che le sto cercate via ci servono anche gli artigli perfetto artigli mamma mia staggita in cosa mi sta a piacere qua sotto si scende aspetta ci servono si artigli che che spore che vite ecco esatto le spore sono la cosa più difficile comunque no la cosa più difficile cioè sto si fottuti quando so tanti io direi la spada come prima eh ciao per favore 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 la spora è dentro l'acqua e io non posso scendere no sono un colgo hai spiegato l'ultima cosa posto lì ho trovato una cesta ciao fai arrivini qui velocemente ah a 3.000 di distanza ragazzi vabbè il taglio ti faccio recuperare un po' di tempo eh ok dopo gente si rimetto perchè ho trovato l'occhio di cthulhu occhio di infidente un bomb stick con 14 danni a distanza recall potion pozione speleologo una moneta d'oro e 7 sbarre d'argento ah non mi fa bene sta roba e in più mi prendo anche questa torcia verde perchè è molto fashion ritaglio ok allora quello era il puntato che ho trovato io mi sa ok eccomi raga scusatelo no veramente dopo un po' di travagli io se non muoio nella puntata la serie non va avanti mi sembra giusto eh prendiamo il fango che poi fa la clorofite ho trovato il rubino bene possiamo invocare anche il se trovo dell'oro possiamo invocare anche il come si chiama il re degli slime serio? no 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 non è possibile non è possibile non ci credo raga io non ci credo sono rimasto bloccato non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile io scrivo oddio quanto avrei pagato per avere la registrazione tua però cawef ca ma altro che e io sbatto il pugno no 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 non è possibile no 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 si e si perché mi lascio sempre solo c'è io ti lascio solo ma magari dimmi che colpa mia no se trovo io sto tanto sto qua dentro a farmare da una cifra dimmi cosa non ho di questo post devo pure trovare il caso che mi fa mi mancano le score cosa non ho di questo post mazza soltanto due video abbiamo il masso che mi cade in testa cioè io veramente buono io faccio più solo sapevo che morirete davo tutti gli oggetti ah dammi la cosa potion la la bla 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 che serve più a te che a me si infatti no no e poi pensare che l'hai trovata mi dà poco fastidio che modo rifà almeno sto più veloce ok ragazzi vedremo dopo quando arriva per quanto sta la parte del segnale ragazzi siamo tornati dalla giungla perchè ormai morivamo troppe volte eravamo usato già troppe pozioni e abbiamo deciso di fare un raid di slime abbiamo raccimolato quindi platino ce l'ho io sta roba rubini possiamo farne anche più di uno eh molto più di uno esatto e soprattutto vai e quindi facciamo una platinum chrome due platinum chrome ok adesso va a vedere come si fa la esca per per il boss più forte di tutti ah è una cosa i am batman 20 dove però porca troia altare ok ci dobbiamo andare allora ragazzi ci vediamo tra poco all'altare all'altare beh lì ecco ci fa non è pronta eh vado prima che diventa notte no morimo ok si dai che ce la famo attento che mo prende i mira 1 e 2 ok eccolo a destra eccolo oh christ c'è dall'armatura dei l'armatura dei ninja ma stanno massacrata pensai che io ho messo un bordello per farlo nel mio mondo questo dice abbiamo degli anni fortissimi oh io sto senza gli slime un attimo qua è pieno ah buono altri gel no cazzo te le pippa ah si tanto tanto che c'è un altro modo ah niente c'è noi di slime che mi davano fastidio attento oh cazzo ci abbiamo trovato la posizione per eccellenza soprattutto ho fatto fuori il sacco di slime e muori pene eccolo eccolo il tu devi morir ovunque io devo me di sempre ma porca ciotta aspetta fammi no me l'ho presa io oh che cosa è quella tipo un laboratorio eh no è qualcosa per craftare la roba in ehm aspetta ho trovato la camicia da ninja 3 4 di difesa in crea attraverso il danno no no aspetta quando io doce la full armor quella la quella la si dal fuoco di difesa però eh si cazzi e abbiamo trovato la solidifera e lo slime hook vado vado con l'altro vado con l'altra corona oi oh aspetta ho trovato la slime hook bella rossa no no ho trovato vabbè e mi dai la casa ninja allora tieni la casacca grazie qui il rampino non mi serve più ok cominciamo col secondo anche se ce le rompe no ok io ritorno all'albero a posto preso bene ma sa quanto compare lontano la zona del compare sopra la casa non so perché ah ok c'è sta c'è sta ma sa quanto dolore gli faccio crescito cazzo che bastardo voglio 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 dai go ma tu ancora sei morto per tutta la serie non sbaglio no no penso di essere morto a prima ragione affogato la morte più brutta è forte così è del tipo un lol più amaro affogato da il non lo so se sono morto se lo registra d'agua puntata da poco col pezzo col pezzo siamo ancora una stessa puntata del cos'è successo gg easy win vado io 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 vado cacchio quanto ero che trovato altro platino e ci abbiamo no e quanto ci manca de de platino e due platini eh quanto chiede la per la corona cinque perchè c'è oltre io e rubini quanti ne chiede eh uno ok no io voglio la cavalcatura siamo in due ah ma hai visto quello che faccio io allora guarda dietro di me ma che taglio ecco perchè era pieno aspetta che adesso e metto pure del qua io faccio crescere le piante sono batman sono batman che fa crescere i pirellini va bene ragazzi allora al prossimo episodio speciale perchè speciale ma anch'io so che cosa ci aspetta se lo sai cosa ci aspetta no no oddio si si che lo sai si che lo sai ma perchè non posso non posso togliere la roba eh comunque in quell'episodio cominciamo già creando la la piattaf ehm si ragazzi da qui stiamo a spoiler un po' troppa roba e al prossimo episodio quindi noi vi lasciamo spero che questo episodio vi sia piaciuto quindi lasciate un mi piace iscrivetevi commentate condividete finalmente ho imparato cazzo dove veni io ok ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao vai ok e grazie